Grazie. Premetto che sarò noioso e che leggerò perché è la cosa più utile quando si vogliono dire affrontare diversi problemi in un tempo limitato. Sono grato delle parole che ha pronunciato Paolo portoghesi e proprio su questa Jerusalem e proprio sul muro del pianto che è a distanza, non c'è nell'iconografia tradizionale della fotografia. E sono grato anche a Fiori che ha letto delle poesie che sono una lettura altra possibile di queste immagini. Io starò dentro la lettura della tradizione fotografica che Chiaramonte spezza, però interrompe. Però sottolineo un fatto. Chiaramonte è per la storia della fotografia in Europa e fuori un problema, perlomeno in Europa e negli Stati Uniti intendo questo, ed è un problema di un grande fotografo che ha avuto una lunga storia, che ha pubblicato molti libri, che ha inventato un'immagine e quest'immagine, che è stata delibata dalle poesie di Fiori, intuita dalla riflessione di Portoghesi, quest'immagine è davanti a noi ed è un problema proprio per la storia della fotografia, perché c'è un fraintendimento nella lettura di Chiaramonte che io cercherò di porre in evidenza e c'è anche un altro problema aperto che è come Chiaramonte è arrivato a questo libro. Quindi nella prima parte e nell'ultimo periodo chiuderò sul problema di inquadramento storiografico di Chiaramonte, in mezzo farò riferimento a una serie di libri che mi sono ripercorso di questi tempi. Scusate se bevo a collo, ma in classico delle conferenze o delle chiacchierate così rovesciare l'acqua sulle carte, dopo poi ho finito. Allora, conosco Giovanni Chiaramonte dal 1973, me lo ha ricordato lui, ci siamo visti prima con Ghirri e poi da soli, davvero molte volte, e l'amicizia, nata da una precisa stima fin dagli inizi, è durata fino a oggi. Così, invitata a presentare a Jerusalem, mi sono sentito un po' a disagio, non perché le occasioni d'incontro fossero mancate, le telefonate almeno settimanali e le rapide colazioni a qualche ristorantino dalle parti del Corriere della Sera, ma perché in realtà io non avevo seguito come avrei dovuto la ricerca di Giovanni. Anzi, quella ricerca l'ho considerata, l'ho vista, ma non ho mai approfondito il discorso su di lui. Certo, l'ho portata alla Biennale, l'ho proposta in diverse rassegna a fine anni 70, pubblicava alcuni dei suoi lavori, come Giardini di Sicilia, anche pubblicati nell'Encirculidea Pratica, per fotografare. Davvero non c'è stata mostra fra quelle che ho organizzato, dove Giovanni non fosse presente con un nucleo importante di opere, anche adesso la mostra che sta per aprirsi a Torne dopo Burri a Parma. Ma tutto questo non è bastato e non basta. Vi domanderete anche perché. Ecco, mi sono scorso una parte dei volumi di fotografie belli e importanti di Chiaramonte. Ho capito che la nostra cultura, la nostra storia della fotografia, non quella italiana ma quella occidentale, devono fare un grande atto di contrizione, diciamolo in questi termini, nei suoi confronti. Chiaramonte è un grande fotografo, anzi un grandissimo fotografo, ma ha considerato troppe volte come uno di quel gruppo che viene fuori dall'officina di Luigi Ghirri. Ecco un falso, un falso storico molto evidente. Così a Chiaramonte dobbiamo, e devo io in questa sede, anche in questa sede, un atto di contrizione, e scusate se insisto su queste metafore religiose, che però saranno anche una chiave possibile per leggere il lavoro del fotografo. Se questo atto non è stato fatto prima, si deve certo a me, ma anche a Giovanni, che con me, negli ultimi 7-8 anni, ha continuato a preparare una grande rassegna storica, una mostra che incredibilmente ancora oggi gli manca, una rassegna che dovrà servire a ristabilire i termini reali di una vicenda che inizia negli anni fine 60 e 70 e che cambierà l'orizzonte della nostra ricerca in fotografia, il nostro modo di pensare, il mondo delle immagini. In un mio vecchio saggio del 1982, che introduceva il volume di Giovanni Chiaramonte, Giardini e Paesaggi, Jacabuc, pubblico, editore, ponevo subito il problema del rapporto di Chiaramonte con Luigi Ghirri, un rapporto che è stato di grande collaborazione, di grande amicizia fra i due fotografi, un'amicizia tanto forte che quando l'editrice di Ghirri, punte virgole, è fallita, Chiaramonte l'ha portata alla Jacabuc, proseguendo la collana e la politica di questa. Le mostre fatte da Chiaramonte, anche della fotografia europea, la consapevolezza di Chiaramonte della nuova fotografia americana, diciamo da Meyerowitz, Eggleston, Minor White, Weston, Lee Friedlander, Robert Frank e tanti altri, sono temi comuni a lui e da Ghirri, ma con una differenza che va subito sottolineata. Ghirri ha sempre pensato alla propria ricerca fotografica come legata a una convinzione, anzi a una molteplice serie di consapevolezze, di letture, di esperienze che vanno dalla critica alla società del consumo dei francofortesi, diciamo da Orkheimer a Dadorna, Benjamin a Marcuse, per giungere da ultimo a Merlot-Ponti e alla fenomenologia. Per Chiaramonte la ricerca passa attraverso esperienze diverse, quelle cinematografiche di Tarkowski e di Michelangelo Antonioni, ma muove insieme anche dalla riflessione più alta della cultura cattolica e da quella visione del mondo, una consapevolezza che emerge dalla serie delle citazioni che Chiaramonte inserisce nei testi, citazioni di poesia, di teologia, di letteratura, di filosofia. Chiaramonte dunque interpreta il mondo in modo diverso da Luigi Ghirri e lo interpreta tendendo sempre a caricare le immagini di una visione dell'assoluto che non ha altre letture possibili. Come questo siciliano che ha vissuto a Milano un'esistenza intera, costruisca queste immagini, è il punto su cui vorrei soffermarmi, ma mi si permetta di citare poche righe di quello che scrivevo ormai 32 anni fa nel libro che ho citato poco prima. Chiaramonte è una posizione difficile perché cerca di operare, da cattolico quale è, all'interno di un mondo che ha perso il sistema dei valori, di tutti i valori, non solamente quelli del cristianesimo. Faceva anche un preciso confronto con Ghirri e segnalavo che per il fotografo allora modenese, la singola foto deve essere parte di un'indagine enormemente più ampia, enormemente più complessa di quella che in seguito viene scelta per la stampa, un'indagine che ha i limiti sempre indefiniti, per cui la stessa icona potrà essere collocata all'interno di una ricerca oppure di un'altra, potrà quindi essere collegata dentro una situazione differente da quella inizialmente prevista, perché si tratta sempre di un'icona ambigua, di un'icona che punta sulla non possibilità di organizzare un discorso critico sul mondo, se non attraverso la messa in discussione dei parametri consueti che oppongono reale affittizio, reale inventato, costruito, rappresentato. E per Chiaramonte la fotografia per lui appunto è una tessera spezzata di un sistema, quello del mondo, che è imperfetto e perfettibile solo se rivista la luce di un assoluto o di un'entità diversa, superiore, fuori del mondo stesso. Ogni immagine che Chiaramonte scatta sarà un'immagine di questo sistema più alto e diverso e sarà quindi un'immagine dove cercare trovare quell'originaria memoria dell'unità di cui lui stesso parla. Fine della lunga citazione. Ho detto che le strade di Chiaramonte e di Ghiri, e questo fin dagli anni 70, sono diverse e che a volte le stesse immagini, aggiungo, immagini molto simili hanno un valore diverso, ma per dimostrarlo più che le parole su un libro servirebbe un altro genere di incontro, servirebbero immagini, confronti, spiegazioni. Non potendo ovviamente fare questo ma solo introdurre qualche spunto di riflessione, penso che un modo per partire, anche se in apparenza banale, sia l'analisi delle tecniche. Chiaramonte non è fotografo da immagini rubate, semmai meditate. Ghiri molte volte utilizza la 2436, raramente si serve di formati più grandi, salvo quando usa la polaroid, la grande polaroid in Olanda. Chiaramonte usa i 6x6, 6x9, a volte i 6x12 per riprendere alcune particolari situazioni, alcuni specifici significativi momenti, e poi citerò un libro dove lo adopera ampiamente, la 6x12. Come Chiaramonte riprende dunque Jerusalem? con il 6x6, pellicola colori, metodo analogico, rifiuto digitale. Riprendere con una 6x6 e col cavalletto significa impostare un'immagine e poi attendere, attendere che la scena si componga come un piano sequenza che altri devono costruire. Ma per scegliere un luogo bisogna evitare l'obbio, evitare il banale, evitare il luogo turistico. Jerusalem purtroppo è anche questo, è la serie dei fotografi che si sono succeduti dal XIX secolo in poi, hanno ripreso come del resto i registi cinematografici le stesse cose, l'ingresso al Santo Sepolcro, il muro del pianto, l'interno del Santo Sepolcro come insieme, la spianata della moschea, quella della cupola sulla roccia, la via dolorosa, l'orto degli ulivi e via elencando. Ebbene, se scorrete le foto di Chiaramonte verrà proiettate finora. Non trovate nulla di tutto questo e non trovate neppure la rappresentazione dei riti, che è uno dei luoghi comuni per via di immagini di chi fotografa questa città, messe, processioni, eccetera. Chiaramonte ha deciso di riflettere e riflettere la parola giusta sugli spazi della memoria. Ha deciso di costruire di Gerusalemme una memoria diversa, ha inventato una città e come e perché l'ha inventata lo potremo meglio scoprire più avanti, cioè nella fine di questa chiacchierata che dura mezz'ora da quando ho cominciato. Ora limitiamoci a osservare queste fotografie. Sono bilanciate al centro, un equilibrio interno che le accomuna tutte e tutte sono accomunate da una precisa luce che a volte trascolora nel chiaro assoluto di una lieve sovraesposizione. Ma scorrendo le immagini trovi altri segnali. Prima di tutto la gente, gente comuni, abitanti, turisti, spesso intenti a dialogare, a leggere, magari ad abbracciarsi. A volte la composizione è organizzata con un grande vuoto al centro, altre con un forte primo piano, in altre ancora torno a uno dei simboli di Chiaramonte, l'albero, il palo, la torre, insomma un segno che indichi il cielo. Poi nelle foto cogli sempre il senso del vuoto. Sono spazi dove le persone esistono, camminano, un cieco col bastone, una figura di bambino di vecchio sedute, ma stanno appena ai margini della scena, ovunque domina la simmetria. Lo spazio è concluso dentro la fotografia. Siamo davanti a una scelta di stile che è ideologica. Ogni foto è strumento di meditazione, ogni foto è un indice, invita lo sguardo verso una direzione. Che sia una finestra verso il cielo, una scalinata della spinata della moschea, un vicolo dei succo, oppure una strada della via dolorosa, con le botteghe tutte chiuse e una luce che piove dall'alto, ovunque trovi la stessa dimensione, temporale oltre che spaziale, di attesa. Uno spazio che attende un evento, come le gotiche arcate del Cenacolo, come lo spazio sospeso del dopo l'ultima cena. Ci sono due foto che intrigano, fra le tante. Venerdì santo, con le croci appoggiate al muro, tante croci contro finestre chiuse. Chiaramonte sa guardare da vicino come da lontano, coglie i particolari che carica di significati. E poi del santo sepolcro, ecco la pietra, muro di roccia segnato dal bianco appannato del neon, di cui parlava anche Fiori. La copertina del libro è dedicata a sinagoga Hurva. Grande arco tagliato dai bordi della stampa, a destra rovine antiche, al fondo l'edificio, in primo piano sulla balaustra due coppie. Sembra l'impianto della scuola di Atene. Non a caso, dentro, Chiaramonte segue con perenne attenzione il mondo classico. Non servono altre letture formali. Se abbiamo capito come funziona la costruzione di immagini di Chiaramonte, possiamo anche cogliere la sua distanza dai fotografi che hanno elaborato la riflessione degli americani per scegliere un'immagine pop o metafisica del nostro vivere, della nostra cultura. Distanti dunque le vocazioni magritiane e dechiricchiane di Ghirri, distanti le riprese di tanti attori sulla scena di Viaggi in Italia, che era una mossa del 1983, diciamo da clonoria Cookie White, Olivo Barbieri. Semmai qualche dialogo deve essere pure avvenuto fra Chiaramonte e Gabriele Basilico, che da Walker Evans ha preso l'impianto delle sue immagini, la loro lunga durata, la meditazione sul paesaggio in bianco e nero, la tensione del voler documentare le città delle distruzioni, diciamo, da Libano all'Europa. Ma naturalmente l'ideologia che muove Gabriele Basilico è diversissima da questa di Chiaramonte. Ma per Chiaramonte le immagini hanno un'altra lunga durata dal significato diverso. Sono tracce, mattoni, pietre per costruire un discorso sull'andare oltre la dimensione del racconto del mondo. E sono immagini che narrano di un lungo e difficile pellegrinaggio che il fotografo ha portato avanti negli anni. Di questo viaggio, di questo pellegrinaggio, di questo eterno ritorno alle fonti, anzi alla origine con l'ho maiuscola, i molti libri di Chiaramonte sono una traccia. Qui mi permetterò troppo brevemente di citarne alcuni, certo però in ordine cronologico, in modo da collegarli a questo Jerusalem e a farne meglio intendere il senso. Perché per Chiaramonte il vivere è viaggio e il viaggio da occidente e oriente porta attraverso luoghi simbolici, da Milano, Berlino, la Sicilia, Atene e Istanbul, fino a Jerusalem, che è luogo certo, ma anche luogo simbolico e dunque punto di partenza per un eterno ritorno alle origini, magari a Gela, sulla quale, anche sulla quale, il fotografo ha costruito un altro suo civilissimo racconto. Nel 1989 Chiaramonte pubblica Terra del Ritorno, dove nel paragrafo intitolato Paese d'origine così ricorda, dipanato da un'amorevole provvidenza, dalla misteriosa sapienza di Dio, il filo del mio destino conduceva quest'isola al colle di Gela che ai miei occhi conteneva davvero in forma concreta, in figura visibile, la molteplicità contraddittoria degli spazi e dei tempi che dicevano costituire le fondamenta della nostra civiltà. Fine della citazione. Nella parte finale del libro ritroviamo alcune immagini di queste origini, ma precedute da altre che vanno da Gela e dalle sue diserte spiagge a Berlino, con le rovine della guerra e le evocazioni dell'antico, per poi scendere la Via Emilia e giungere a Roma e ad Atene, a Istanbul e infine a Gerusalemme. Il periplo del Mediterraneo è preceduto dall'analisi del luogo berlino, dove le culture del nuovo si sono confrontate e scontrate, diciamo, in tre guerre mondiali, comprese quelle del 1870, e dove nasce dalla Germania un modello forse vincente di organizzare la società, contrapposto al sud, denso di altri percorsi, di altre culture e memorie. Un altro libro, in certo qual senso commovente, è Westworth, del 1996, viaggio americano dove, in un grande formato rettangolare, il fotografo racconta gli Stati Uniti scoprendo non il consumo dei media, la poppa, la violenza di certe immagini di Eggleston e di tanti altri, ma una dimensione larga, pacata, pacificata di un luogo dove domina ancora una volta l'assenza di eventi, dove affiorano poche piccole figure in spazi troppo grandi e dove la meraviglia e la dimensione epica del naturale. Anche questa, per Chiaramonte, una strada per avviarsi all'assoluto. Forse le parole di Joel Meyerowitz, che è un amico e un grandissimo fotografo americano, nella pagina introduttiva sono il commento più toccante alla grande ricerca di Chiaramonte. Cito, per me gli assomiglia più al narratore e navigatore della città invisibili di Italo Calvino, che descrive scene di viaggio ordinarie eppure enigmatiche. Ovunque volga lo sguardo è presente la matrice della civiltà. Edifici crollano, carreggiate scivolano nel mare, individui vagano senza meta attraversi il paesaggio. Il suolo su cui camminiamo è sopraffatto dalla natura. A ingombrare il paesaggio appaiono spenti memoriali di guerra e distruzione. Aeri da caccia e granate di cannone, ora utilizzati come giochi per bambini o decorazioni di parchi. Fine della citazione di Meyerowitz. Ecco, scoprire l'assoluto in questi spazi, scoprire le tracce dell'Europa e delle sue culture, nelle finte Venezie o nei finti frontoni di templi classici, sparsi un po' ovunque su tribunali e banche, dicono degli Stati Uniti, è una delle chiavi di lettura di questi luoghi metastorici nel grande ventre degli USA. Per leggere le foto di Chiaramonte, aiutano a volte i testi dei critici. Così Michele Cometa, introducendo ai confini del mare, che è del 1999, scrive sulla Sicilia, citazione, questa disperata orizzontalità senza redenzione, senza neppure un segno che unisca la terra e il cielo. L'unico palo, come sempre una spia del divino in Chiaramonte, viene simbolicamente annientato da alcuni bambini che si contendono una corda orizzontale anch'essa. Dei bambini, poi, i muri bianchi, terrazze, fili del telefono, pavimenti intarsiati, il Cristo disteso in una teca, persino il mare, le colline, il grano, giacciono su pini orizzontali in un mondo senza redenzione. Fine dell'altra citazione. Sono convinto, sono foto di luoghi dove l'unica possibilità che Chiaramonte ci offre è la lunga durata di una meditazione, ma sono anche luoghi del ritorno, di un recupero di una Sicilia greca, romana di oggi, dove tutto si intreccia, si sovrappone, ma dove la chiave per comprendere resta l'assenza, il vuoto, ma anche il conflitto interno ogni immagine, dove le tracce della distruzione, delle distruzioni emergono da tanti dettagli. Sono foto rettangolari e i dettagli di tecnici cosiddetti sono linguaggio, con personaggi che spesso vediamo solo di spalle, essi pure dentro un quadro che contemplano, un quadro che noi vediamo attraverso il loro sguardo. Insomma, Chiaramonte non è un fotografo realista, semmai concettuale, ma se vogliamo parlare di viaggio dobbiamo seguire Chiaramonte, che scrive benissimo, a Milano e cominciare un altro percorso, quello che lui racconta in un intrigante volume dal titolo Milano Cerchi della città di mezzo del 2000, pensato per leggere Milano attraverso i concentrici cerchi delle cinture autostradali e dei navigli delle mura distrutte, un percorso di avvicinamento che è anche di comprensione, ma insieme segno di intricati conflitti. Le parole di Chiaramonte sono illuminanti. Conosco, perché ormai fanno parte di me quegli incerti piazzali che fanno da capoline ai tram e le strade che si interrompono improvvisamente di fronte a campi in parte ancora coltivati e in parte abbandonati alle discariche o lasciati ai giochi dei bambini e attraversati da sentieri sterrati che portano a case non ancora ultimate eppure già abitate. Sembra di leggere le cronache televisive di questi giorni, solo che un testo di 25 anni fa. Conosco la desolazione di questi spazi mai finiti e mai divenuti luoghi, sospesi tra i binari delle linee ferroviarie e i muri delle fabbriche e i destini mai compiuti degli uomini che vi vivono. E conosco anche il vuoto, inquietante fino all'angoscia, a volte esaltante sino alla gioia di quegli spazi aperti lungo l'orizzonte su cui si alzano, dispersi e lontani, cantieri e gru di nuovi quartieri, scapannoni industriali, cascine coloni, cabazie secolari, tralicci dell'alta tensione. Un grande, chiuse le virgolette in la citazione di Chiaramonte, un grande libro dove il viaggio dalle tangenziali all'interno fino al centro della città scopre una Milano dove i vuoti accompagnano i percorsi della gente, e sottolino la parola i vuoti, e dove pochissime volte intravedi qualche monumento, una porta della città, il Sant'Ambrogio di Sghembo, le colonne, le finestre gotiche, di notte gli spazi di Bramante. Ecco un altro esempio di come viaggia Chiaramonte. Un altro libro, piccolo questa volta, Mondo città, sempre 2000, vede insieme Chiaramonte e Meyerowitz, il primo riprende Berlino, Lisbono e Lavana. In ogni viaggio ecco il fotografo italiano cercare le tracce di Karl Friedrich Schinklapostam, della vecchia Havana come era prima del tempo di Crastro e delle sue mitologie rivoluzionarie, insomma un metodo di ripresa che anche un modo civile attento partecipe di capire un mondo. Nel 2003, introducendo Dolce e la luce, dove propone una serie di impressionanti immagini della Sicilia come bruciate dalla luce. Il fotografo propone una chiave di lettura del suo creare immagini e del suo rapporto con il reale e spiega il senso di quello che lui chiama realismo infinito. Ecco le sue parole. Mi spiace mettere queste citazioni di Chiaramonte, ma senza queste citazioni il senso di questo libro non si può capire. Sullo schermo di visione della mia camera ottica, nella nitida profondità di campo che dal primo piano in cui sono immerso spinge, allarga lo sguardo lungo il punto di fuga verso l'orizzonte dell'infinito, il reale mi è apparso sempre indeterminato e mai determinabile. Aver cercato di accogliere il reale nella sua totalità mi ha via via liberato da ogni possibile determinazione, mi ha generato all'arte della vita e mi ha spalancato alla visione dell'esistenza che, impensata e impensabile, accade sempre nuovo in noi e attorno a noi. Realismo è l'esperienza e la rappresentazione dell'infinito nel non determinato e nel non determinabile che è l'esistenza del mondo e dell'uomo nel suo essere evento, avvenimento, storia. Posso indicare col nome di realismo infinito il percorso della mia fotografia, perché l'atto in cui essa viene alla luce si genera in questa esperienza e con questa modalità di visione. Fine della citazione. Il ragionamento di Chiaramonto è molto articolato, ma basta questo passo per rufire una chiave di lettura delle sue immagini, che sono sì rappresentazioni di un luogo e di un momento specifico, ma non sono mai strette sull'evento, non sono mai documento di quel luogo, di quelle persone o di quell'avvenimento, ma sono punti di partenza, culmini o semplicemente gradini per andare oltre, per trasferire quell'immagini ad un altro livello di lettura, di interpretazione. L'immagine non è documento ma simbolo. Pensare a queste immagini dunque per capire la sequenza delle foto di Jerusalem dalla quale sono partito è indispensabile. In un altro breve volume dal titolo Pellegrinaggi occidentali, sempre 2000, il fotografo scrive, virgolette, la mia fotografia è stata ed è un viaggio senza fine, un pellegrinaggio in ogni luogo del mondo toccato dalla civiltà occidentale alla quale appartengo, perché in ogni luogo del mondo all'ora del tempo si può illuminare della parola che supera ogni indistanza e si fa presente nel cuore di ogni persona, come di ogni essere, come di ogni cosa. Fine della citazione. Dunque per Chiaramonte, che nel volumento inserisce foto di Gela, Roma, Atene, Istanbul, Los Angeles, Gerusalemme, viaggio e percorso interiore, modo di sublimazione delle passioni, luogo di ricerca e di finale pacificazione. È illustrato con immagini di città diverse, da Berlino ad Atene, da Venezia, Istanbul, Porto, Lisbona, Merida, Barcellona, un libro dal titolo Abitare il mondo Europe del 2004. E qui, in una poesia di Umberto Fiore, per Giovanni e dal titolo Diciture, fra l'altro leggiamo, virgolette, cito Fiore, Tebe, Gaza, Berlino, Gerusalemme, ogni muro da noi è il muro del pianto, vivi, radure, labirinti, detriti, geometria, spigoli, Europa, tra gli olivi lassù lo sguardo della glocopide. Scuso per la lettura banalizzante, ma era importante questo doppio livello. Dunque, Fiori, coglie il senso della ricerca del fotografo, il mondo antico, le sue frammentate memorie nei luoghi delle immagini, nelle città, sulle rive del Mediterraneo e non solo in quelle. Alcuni volumi più recenti appaiono molto intriganti e utili anche proprio per capire le scelte fotografiche di Chiaramonte. Così, in Senza Foce, 2005, vediamo un singolare modo di ripresa, con una 6x12, che mette a confronto in un'immagine orizzontale di fatto due campi quadrati, con due poli mediani di riferimento e con al centro come un potenziale intervallo fra due immagini che posseggono un interno equilibrio. E dà ragione Zanot, l'autore della prefazione al libro, a scrivere che il fotografo, virgolette, obbliga lo sguardo dell'osservatore a muoversi lateralmente, mi mando quello stesso viaggio che egli ha compiuto per compiere queste vedute. Fine della citazione. Qui però a noi interessa confrontare il doppio spazio, due quadrati accostati, delle riprese per questo volume, in genere paesaggi dell'Olona, confrontarlo con le foto quadrate di Gerusalemme. Sceliendo il formato 6x12, Chiaramonte ha deciso un tipo di racconto per immagini. Il 6x6 di Gerusalemme significa evidentemente altro. Trovo il libro di Chiaramonte su Venezia, un lavoro bellissimo e originale, pubblicato nel 2006, dove il fotografo scopre la Venezia che conoscono solo coloro che evitano la folla attorno ai monumenti, le bancarelli, i gondolieri, i vaporetti. Cioè è un po' come per Gerusalemme, dove il luogo comune dei luoghi e degli spazi della città è evitato. Una Venezia ripresa con lo sguardo basso, una Venezia durissima, densa, della materia del cotto e delle pietre, dei gradini e degli slarghi, dei traguardi delle immagini, pensate con un canale mediano che apre a un altrove. I formati dei negativi sono 6x9 e 6x12 e suggeriscono ogni volta una differente scoperta dei luoghi e mostrano presenze a volte eccentrici, a volte marginali delle figure. Dunque una Venezia viva, una Venezia forse ripresa di inverno o comunque in orari lontani da quelli delle folle, una Venezia dove la gente è senza volto o con i volti sfocati o di schiena, un luogo dove dominano isolamento, solitudine, durata. Il volume del 2007, nascosto in prospettiva, prende il titolo da un testo poetico di Joseph Brodsky che suona, virgolette, quando arriva al punto in cui non può essere più amato, l'uomo, disdegnando di risalire a nuoto la corrente violenta, si nasconde in prospettiva. Il senso che il fotografo dà a questi versi si comprende leggendo un suo passo. Il movimento del cuore, cito Chiaramonte, il movimento del cuore, innescato dal ricordo, attraverso il dato obiettivo della memoria, consente agli occhi di vedere oltre il confine euclideo dell'apparenza e di guardare nell'uomo e nel mondo alla verità del destino, mettendo finalmente a fuoco un'immagine compiuta e definitiva della realtà. Un'immagine visibilmente vive profonda come l'infinito e l'eternità che si rispecchiano in essa. L'immagine allora genera, comprende a comune in un unico piano spazio-temporale, il suo creatore, il soggetto rappresentato e colui che la guarderà nel corso del tempo. Fine della citazione. Ecco cos'è, nascosto in prospettiva dentro ogni immagine, il momento della creazione del singolo testo, la sublimazione del testo, oltre il mondo, tra virgolette, euclideo dell'apparenza. Infine, la sintesi di creatore, rappresentazione, fruitore dell'immagine. In questo senso, le fotografie di Jerusalem vogliono dire anche comprensione dell'assoluto, superamento dello spazio temporale del quotidiano. E davvero, ogni immagine di questa importante ricerca propone qualcosa che va al di là del semplice, episodico riprendere. Sono tutte immagini quadrate che dunque suggeriscono un percorso dal particolare al generale, dal relativo all'assoluto. Una grande mostra alternale di Milano ha proposto la ricerca su Berlino di Chiaramonte, nel volume del 2009, una mostra del 2009, dove la lettura dei vuoti, degli spazi scavati dalla guerra, dalla ricostruzione, dagli abbandoni, suggerisce una dimensione sospesa, senza tempo, delle immagini. Con queste Chiaramonte costruisce comunque una storia, l'evocazione dell'antico, i segni delle periferie, la ricostruzione, i resti della Berlino Est, il tutto pensato nel formato 6x9 del negativo, con immagini dunque fortemente equilibrate, caratterizzate da qualche accennata sovraesposizione per dar rilievo alle dominanti gialle del racconto. Scrive nell'introduzione il fotografo, virgolette, per me la città e le case corrono sempre il rischio di diventare carceri piranesiane, emblematiche ravine di una decadenza senza fine del genere umano. Chiuse le virgolette. Ecco, nelle foto di Chiaramonte a Berlino, frutto forse di 30 anni di lavori, di soggiorni e dunque di scelte, leggi questa ossessione, questa angoscia di una città densa di contraddizioni e dove il vuoto non racconta certo la speranza. Un ultimo libro va preso in considerazione proprio per la sua enorme distanza da Jerusalem e da tutti gli altri libri che finora ha esaminato, ed è L'altro nei volti nei luoghi del 2010. Qui Chiaramonte costruisse fra la Sicilia e Milano un racconto delle persone, al centro il ritratto, la figura del protagonista ai lati due immagini a formare un trittico dove leggiamo i simboli dell'esistenza, piccoli frammenti di lontana identità, oggetti, scritti, memorie, molto affastellate nelle immagini palermitane con un ordine e una scansione ben diversa a Milano. Quello che importa è un'attenzione antropologica, una capacità di invenzioni importanti, le stesse che per Chiaramonte hanno voluto dire un attento rispettoso accostamento alle vicende di persone, a volte anche ai margini della società, che nel farti accedere alla propria casa si aprono un'indagine, magari a un terribile confronto. Parlando dei trittici, Foster scrive, virgolette, una triada che da sempre concede solo un attimo al presente, ma ci chiede per tutta la vita di travasare il passato mentre fuggiamo nel futuro. Ecco una chiave, chiuse virgolette, ecco una chiave possibile per valutare la temporalità diversa delle foto di Chiaramonte in questo volume, ma anche quella ben distante da questa di Jerusalem. Sono giunto alla fine di un lungo percorso, forse troppo lungo, stante l'occasione che mi è stata offerta, di questo mi scuso con tutti voi. Mi sembra però che si possano trarre alcune conclusioni, o due periodi. La strada che Chiaramonte ha scelto per raccontare il mondo muove della creazione di uno stile inconfondibile che utilizza il formato, la composizione, il colore come strumento per prendere le distanze dai modi tradizionali di costruire le immagini. Ho già posto in evidenza questi aspetti, mi limito qui a ricordare che la scelta del formato quadrato, il quadrato che diventa spesso cubo perché è una spazialità, non è un'immagine su due dimensioni, volume, cubo, volume nelle immagini fotografiche di Chiaramonte, simboleggia la terra, è un solido regolare, è lo spazio dell'uomo dove la luce interviene, abbacinando, trasfigurando ogni immagine. La composizione stessa impone poi uno stacco temporale, le figure, quando vi sono, appaiono piccole, non ci guardano o ci volgono le spalle, sono segni di esistenza, non presenze reali. Dunque, il sistema del racconto scandisce un tempo diverso che risale dal mondo fenomenico al mondo numerico, e le fotografie sono un concentrato, come a dire che esprimono un racconto scandito secondo un ritmo assoluto, una lunga durata per dirla con Berson, che peraltro intende con questa espressione una temporalità diversa. Quello che leggo nelle immagini di Chiaramonte credo sia il Dasein, l'essere qui della fenomenologia, diciamo da Husser a Merleau-Ponty. Sono dunque immagini che ormai da quattro decenni hanno cambiato la storia della nostra fotografia, dialogando con quella statunitense, come si è detto agli inizi, ma prendendone anche le distanze. Chiaramonte, nella vicenda della nostra fotografia ha avuto, diciamolo, un grande difetto, del quale dobbiamo essere ben consapevoli. Ha letto lo spazio del fotografare non come critica della società del consumo, ma come punto di partenza per la scoperta del divino nel mondo. Per uno storico della civiltà, dell'arte, della fotografia non vi sono ideologie da accettare o da respindere, quale che sia la sua convinzione personale, ma ideologie da scoprire, comprendere, valutare. Eppure Chiaramonte ha vissuto sulla sua pelle alcuni aspetti di questa esclusione. È tempo che questa sua figura, dominante molte volte sulla scena internazionale, venga riconosciuta per il grande contributo di invenzione, ma anche per il grande lavoro di ricerca storica portato avanti in diversi momenti, diciamo da punte virgola alla Iacabuc, che era una collana che lui ha diretto con Ghirri, a Motta, un'altra casa editrice, ancora dopo. Questo, davvero, la nostra cultura glielo deve. E glielo devono le decine di fotografi che Chiaramonte negli anni ha formato, aiutato, proposti in grandi rassegne e in importanti volumi. Sfogliando le pagine di Jerusalem, vero livre de chévé, viaggio fotografico alla contemplazione dell'assoluto, dobbiamo sempre ricordarselo. Vi ringrazio della patente. Dobbiamo ringraziare tutti Arturo Carlo Quintavalle per questo straordinario modo di averci accompagnato anche noi stessi in questo suo atto di contrizione, davvero come sforzo titanico e straordinario, in questo ripercorso dalle origini dell'esperienza di Giovanni Chiaramonte, dalle origini fino alla contemporaneità. E soprattutto di lasciarci sperare, perché a partire da una citazione che tu, Carlo, hai fatto di Michele Cometa per un libro della fine degli anni 90, lì mi pare che non ci fosse possibilità di riscatto o di redenzione. Ecco, mi pare di capire che questa serata ci dà la possibilità a tutti quanti di riscattarci e di ripensare complessivamente a tutto il lavoro di Giovanni, il secondo percorso che ci ha indicato e di cui ci sentiamo responsabili di non aver forse colto appieno da sempre la sua straordinarietà. Aggiungo solo un'ultima cosa, ecco, probabilmente tra i limiti di Giovanni, tu ne accennavi uno prima, c'è anche quello che la macerazione del lavoro, la sofferenza interiore, diciamo testoriana, ecco, ha mancato la restituzione sulfurea di questa macerazione. Ne ha restituito soltanto l'apparente solarità e questo forse è stato il limite dell'eccesso, diciamo, di bellezza che lui in 40 anni ci ha dato. Grazie, scusate. No, io voglio solo dire che negli Stati Uniti o in Germania, cioè fuori dell'Italia, la storia di Chiaramonte che vi ho raccontato non avrei potuto raccontarla in questi termini. Questa è veramente la storia del dibattito in Italia su Giovanni Chiaramonte. Non è la storia di Giovanni Chiaramonte perché fuori c'è una casa a Berlino che li paga lo Stato tedesco, forse uno dei pochissimi italiani, insieme a qualche ambasciatore o addetto culturale, a trovarsi nessuno di fotografi, certamente. Quindi voglio dire che questa è purtroppo la storia un po' amara di vecchi conflitti ideologici che non hanno senso. Io personalmente sono stato sempre dalla parte di Benjamin alla scuola di Francoforte e ho strascritto su questo, però questo non mi ha mai impedito di apprezzare un lavoro come questo di Chiaramonte. Volevo dire questo perché, ah no, adesso è un atto di contraddizione solo per l'Italia. Grazie ai relatori e grazie soprattutto anche a voi. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie.